Siamo qui in San Pietro, in questo momento nella cripta davanti alla tomba di Giovanni Acquaderni in occasione dell'anniversario della sua scomparsa. Acquaderni è scomparso il 16 di febbraio del 1922 e da più anni, noi ricordiamo ogni anno in collaborazione con l'Azione Cattolica e altri enti del movimento cattolico bolognese la scomparsa, il transito, come si direbbe altrove, di Giovanni Acquaderni. Acquaderni è qui perché, starei per dire a furor di popolo, nel senso più lato del termine, è stato traslato nel secondo dopoguerra dalla Certosa alla Cattedrale in corrispondenza con l'Altare Maggiore. Questo ricordare Acquaderni nacque anni fa, alla fine del secolo XX, d'accordo con il cardenale recivesco Giacomo Biffi, nell'intento di aprire la causa di beatificazione di Giovanni Acquaderni. Poi, dal momento che la causa presuppone la trascrizione degli scritti e magari di tutti gli scritti, noi siamo ancora in itinere, come suol dirsi, cioè abbiamo pubblicato alcuni volumi delle sue lettere. Però, intanto, manteniamo un ricordo e ricamiamo l'attenzione su una figura che è centrale nella storia specialmente recente della Diocesi e che fu ricordata, fra l'altro, da Giovanni Paolo II nella sua venuta a Bologna come riferimento fondamentale. Dico, Signore, a Lui splenda la luce perpetua, riposi in pazza e anni. Dico, riposo.